Sono Riccardo Gozio, sono il presidente del gruppo Rotariano Comunitario che si interessa di sicurezza stradale, siamo operativi in tutta Italia e oggi ho l'opportunità grazie a Radio Bruno di poter esprimere queste mie idee dell'importanza della sicurezza stradale che in Italia fanno da 9 a 10 morti al giorno, fanno il numero dei feriti in vali permanenti circa sette volte il numero dei feriti e dei morti, nella comunità europea ci sono 70 morti al giorno, nel mondo 3.500, pari a 1.350.000 morti mediamente all'anno per infortunistica stradale. Stiamo parlando di morti di più di una guerra, per carità, io sono contro le guerre, sono per il dialogo, ma come non si vogliono le guerre, bisognerebbe anche non volere i morti per infortunistica stradale. La cifra di 1.350.000 morti annui, che potete verificare in internet e su vari siti, è una cifra incredibilmente alta, senza considerare tutti i drammi che ci sono per le famiglie che hanno morto in casa o in valido permanente. In valido permanente è sette volte il numero, come ho detto prima, dei morti. Sono drammi per il soggetto che subisce l'incidente, se rimane su una seggio della rotella, sono drammi per i familiari, se muore, rimane su una seggio pelle, ma sono anche drammi per le persone che involontariamente provocano un incidente. Drammi che durano anni. Abbiamo dei costi morali, ma anche degli enormi costi economici. Nella sol'Italia i costi diretti per infortunistica stradale, con morti e feriti, siamo a circa 17 miliardi di euro all'anno. Pertanto, se riuscissimo a calare questi problemi di infortunistica stradale, avremo una migliore qualità di vita per le famiglie, avremmo anche un grande risparmio economico. Pertanto avremmo, come si diceva una volta, io non sono più giovane, due piccioni con una fava, cioè con un'esca, riuscimmo a dovere due piccioni. Che cosa mi occupo? Io sono un rotariano, mi sono sensibilizzato su questo problema, già anni fa ne parlai con un mio caro amico, che è il professore ordinario di trasporti dell'Università di Brescia, il professor Giulio Maternini, e disse, ma è possibile che non si possa fare niente per queste situazioni, per questi drammi che esistono? Drammi che tante volte non vengono neanche conosciuti, perché la depressione che colpisce una famiglia, che ha un morto in casa, o un ferito grave, invalido, permanente, sono cose gravi. E questi costi anche di diminuzione economica, perché una famiglia in depressione, una persona in depressione lavora anche di meno, non vengono considerati negli importi, che ho detto prima, di 17 miliardi. Se poi considerassimo, e mi approfitto la parentesi anche, di considerare i costi dovuti solo ai danni materiali senza feriti e morti, senza considerare il minore reddito di produzione dovuto alle depressioni o agli impegni che un familiare si deve prendere perché è in casa un disabile, siamo sui 26-27 miliardi di euro all'anno nella sola Italia. Pertanto, come vede, sono problemi sia morali ma anche economici. Noi, come rotariani, ci impegniamo a livello sociale per tentare di denire i problemi e diminuire le problematiche che esistono. Puntiamo a obiettivi raggiungibili, ma al limite anche difficili agli altri, ma a noi risolvibili. Non noi perché io personalmente sono bravo, ma perché quando nacque il Rotary puntò ad unire persone, professionisti, operatori di diversa natura. Pertanto non è che come l'ordine, io sono ingegnere, l'ordine dell'ingegnero, l'ordine dei medici, l'ordine dei farmacisti, siamo persone polivalenti e pertanto affrontiamo un problema da varie ottiche, portando ognuno la propria disponibilità e portando ognuno il proprio sapere e la conoscenza al fine di risolvere al meglio il problema. Poi abbiamo, come Rotary, ci autotassiamo, pertanto abbiamo anche un LA per dare questi contributi e operiamo in questo. Operiamo in quali settori della sicurezza stradale, in tanti. Abbiamo contribuito, come ho detto prima, a aprire a Brescia il CESCOM, un centro studi città mica per la sicurezza nella mobilità. Abbiamo contribuito, merito dall'università, del magnifico rettore Maurizio Tira, del professor Giulio Materini, di tutti i suoi collaboratori. E questo è un fiore all'occhiello che ha come centro di cerca l'Italia, perché studia le dinamiche dell'infortunistica stradale. Il 74% statisticamente nelle medie degli anni è dovuto a infortunistiche stradali in ambiente urbano, sto parlando sempre con morti e feriti. Non sto parlando del danno solo meccanico, dove non ci sono morti e feriti. C'è l'utente debole della strada, che è il pedone, il ciclista. E in questo il CESCOM sta lavorando tantissimo. Lavora a livello europeo, si confronta a livello europeo, lavora col Ministero e nel programmo proposto dal Ministero, perché nel 2030 si arrivi a degli ottimi risultati sulla sicurezza stradale. Sta operando intanto. In più riesce anche a compiere una serie di opere e studi commissionati dalla regione Lombardia, per esempio, tra i quali capire quali sono i tratti di strada. Ha fatto già questo studio più pericolosi per poter poi intervenire specificatamente nei tratti di strada che sono più pericolosi. Il CESCOM ha vari ricercatori, ha vari professori universitari e in più il CESCOM contribuisce a creare la cultura e i tecnici. Io ricordo che c'è una legge della comunità europea che c'è da parecchi anni, che obbligherebbe, l'Italia lo obbligava entro il 31 dicembre 2021, a creare il ruolo degli ispettori, cioè quelli che vidimano i progetti stradali, con un corso di 180 ore. Il governo è in ritardo, si sta lavorando adesso per iniziare questi corsi, ha già superato il limite dato alla comunità europea e questo è fondamentale, perché quando troviamo delle rotatorie con su degli ostacoli, che non sono vie di fuga, perché per carità c'è un incidente, quello che correva è sbagliato, ma non lo possiamo condannare a morte o su una seggio a rotelle. Bisogna lasciare l'opportunità che il suo errore venga in qualche modo mitigato alla conformazione della strada. Le gare di Formula 1, Formula 2, Formula 3, le gare motociclistiche non servono solo per provare nuovi materiali o dare emozioni alla gente che guardano la televisione, ma hanno anche studiato come migliorare la sicurezza e ci sono le idee di fuga. Le rotatorie dovrebbero essere progettate come vie di fuga, mettere però un ostacolo bucabile, tipo una siepe, in modo che l'utente che arriva magari anche distratto, purtroppo può essere distratto anche da un cellulare o da tante altre cose o da una conversazione importante, vede questo ostacolo, capisce di rallentare, ma se sbaglia manovra per assurdo può arrivare nella rotatoria. La regione Lombardia ha pubblicato già queste intersezioni a raso come dovrebbero essere fatte, che purtroppo non vengono seguite dai progettisti e ciò è un rischio ogni giorno per gli utenti della strada. Noi allora, come Rotary, ma anche come gruppo rotariano comunitario di sicurezza stradale, che è aperto a tutti ed è gratuito, è aperto a rotariani e non rotariani. Iscriversi è gratuito, il mantenere nell'associazione è assolutamente gratuito. Siamo a livello nazionale, invito tutti che sono interessati a questo sistema, a questo service, ad iscriversi. Ci trovate sul sito www.savityroadforlife.org, invito se la regia potesse mettere questo indirizzo, leggere il nostro statuto regolamento, se lo si condivide, compilare la domanda e iscriversi. Siamo a livello nazionale, siamo in più di 90 soci, ci troviamo telematicamente, perché essendo a livello nazionale dalla Sicilia alla Val d'Osta non possiamo trovarci fisicamente di persona, ogni 40 giorni facciamo il punto della situazione. Ho parlato prima del CET, che è uno degli obiettivi di portare avanti, che abbiamo fatto con l'Università di Brescia, contribuito con l'Università di Brescia a portare avanti come miglioramento della cultura di sicurezza stradale, perché il CESC mi è riuscito a fare anche dei corsi da Bari fino a Trento, coinvolgendo circa 1500 professionisti, dando anche i crediti di formazione professionale ai professionisti. Fare cultura è una cosa fondamentale nei professionisti, specialmente fin quando non ci saranno questi ispettori che dovranno validare i progetti. Ci occupiamo anche di voler andare nelle scuole. In Campania abbiamo un nostro amico referente, Renato Silvestre, che si occupa di tutta la Campania, qui nel Lombardia orientale, sud della Lombardia e provincia in Piacenza, perché noi facciamo parte del distretto Rotary 2050 e abbraccia tutta questa fascia del sud, dell'est della Lombardia e della provincia in Piacenza. Ci interessiamo di andare nelle scuole e portare la cultura, perché bisogna lavorare su più fattori. Serve la cultura dei tecnici, serve che l'utente della strada si comporti correttamente. Per esempio affrontare le cinture anche per i passeggeri posteriori è fondamentale. In caso d'urto il passeggero posteriore viene proiettato verso il davanti. Se trova la nuca del passeggero davanti lo ammazza, perché la fronte è molto dura, mentre la nuca è un elemento un po' più debole. Pertanto anche portare le cinture di sicurezza posteriori è importante. Bisogna fare anche cultura all'utente della strada. Bisogna fargli capire che va bene il vivavoce, ma non parlare di cose molto importanti al telefono, perché distrae troppo dalla guida, di non mettersi in condizioni di aver bevuto e poi mettersi alla guida. Sono tanti i fattori. Un altro sottoservice, chiamiamoli, che facciamo come gruppo rotteriano comunitario, lì c'è l'amico, il nostro suo socio Carlo Linetti, si occupa dei caschi integrali. Ha fatto fare uno studio importante dove si risparmierebbero milioni di euro, anche solo a livello economico, senza parlare di drammi alle famiglie, se si usasse il casco integrale a posto del casco jet. Il casco jet è quello aperto sul davanti, ti spacca tutto quando hai un urto, il problema, il cissetto nasale, la mandibola. Col casco integrale sei più protetto. Anche questo è importante, è riuscire a far capire questo, come sarebbe importantissimo che i motociclisti usassero i giubbotti con airbag. Giubbotto con airbag non ha un costo elevatissimo, si parte, noi siamo per i giubbotti con airbag non collegato con la moto alla catenella che si strappa e si riconfia, ma collegato al GPS e sente l'accelerazione. Costa da 5,50 uno medio, diciamo già buono, 650 euro. Bisogna far capire questo anche all'utente della strada. Bella la moto, cromata, con il parafango all'ultimo modo e tutto. Però pensare anche alla propria sicurezza è importante. Quelli che dicono a me non è mai successo, io gli dico allora scusate, non voglio deprimere nessuno, dico vieni con me al cimitero che ti faccio vedere le fotografie di quelli che gli è successo. O vieni con me negli ospedali che ti faccio vedere, o vieni a casa di qualcuno che è sulla seggio della rotella. Pertanto non si può pensare di essere immortali. Il giovane sfida un po' di più sulla vita dell'anziano. Però bisogna rispettare la vita, il bene più prezioso che abbiamo. Se abbiamo la salute possiamo fare tutto, possiamo operare come meglio crediamo. Il rispetto della propria comunità e degli altri è fondamentale. Pertanto anche il giubbottico, il bag sarebbero da pubblicizzare alquanto. Io mi auguro che la regione Lombardia, che si interessa anche di sanità, magari contribuisca a chi vuol comprarsi un giubbotto con airbag, avere un'agevolazione. Acevolazione che poi li si ripercuoterebbe in automatico sulla sanità, perché avremmo meno gente con la botta sul petto o con la spina dorsale rotta. Pertanto ci sarebbe un grande risparmio economico, un grande ritorno subito di questo. Poi un altro punto importante sono i guardia rail. I guardia rail, così come sono adesso, nella parte bassa, sono pericolosissimi quando cadono i motociclisti. Vengono studiati degli elementi, generalmente di colore giallo, in plastica, messi nella parte bassa, in modo che il motociclista non si infili sotto e non si tagli. Cioè vengono, purtroppo, mi dispiace dirlo, non voglio, come ho detto prima di prima nessuno, vengono alcuni amputati o muoiono addirittura per i tagli che subiscono sul guardia rail. E anche questo sarebbe un altro elemento fondamentale. Abbiamo anche un altro punto che stiamo lavorando con un nostro amico, un ingegnere, che è l'ingegnere Ubaldo Mazzoncini, un grande esperto di infortunistica stradale, che ha messo a punto una tecnica di rilievo coi droni. Il rilievo col drone ti permette di stare a bordo strade e rilevare la strada in modo assolutamente preciso, perché facendo volare il drone, generalmente, a 15 o 18 metri da terra e scattando e coprendo l'80% ogni fotografia della vecchia fotografia, hai un disegno planimetrico perfetto. Vedi addirittura le stanghette degli occhiali per terra. Pertanto niente viene lasciato all'individuo o al soggetto che può fare il rilievo. Succede poi, magari, che si fai un rilievo in condizioni pessime, perché incidenti avvengono in condizioni pessime, magari di notte, col buio, quando piove e tutto. Un operatore legge, per esempio, 3,8, ma sono 3,80 metri o 3,8 centimetri. Facendo invece questo rilievo in modo preciso, prendendo poi la distanza tra due punti fissi o metti una stadia di 5 metri o tra due punti di due chiusini, tu hai il disegno perfettamente in pianta e rilievi tutto anche a posteriori. Inoltre, come ho detto, il permettere di rilievo, stando al bordo della strada, permette di operare in sicurezza. Vorrei ricordare che pochi mesi fa un agente della polizia della strada del Veneto, è morto durante un rilievo. Anche l'operare in sicurezza è fondamentale. Pertanto potremmo usare anche poi questi droni, non solo per i vari incidenti stradali che è a posteriori, cosa che non dovrebbe avvenire l'incidente, ma anche a priori, cioè lo studio, un rilievo di una strada, si può fare in modo perfetto e preciso, con la precisione al centimetro, con l'uso dei droni, con dei costi che sono bassissimi, la tecnologia c'è già, il Gerobardo Mazzoncini poi ha messo a punto questi sistemi, anche prendendo dei software americani, anche che costano relativamente, perché costano 49,90 dollari, un software che ti permette poi il volo per punti. I droni non costano più cari, ormai sono su 550, 600 euro, poi serve un personal un po' importante, in senso potente, con magari un microprocessore tipo Intel i5, poi serve il monitor da mettere dove c'è il comando, il joystick del comando del drone, insomma con poco più, ne è poco, più di 1000 euro, tutti nell'attrezzatura. Certo poi bisogna anche imparare a usare, ma sono pochissime ore di istruzione, che anche in questo caso il GROC tramite il Gerobardo Mazzoncini gratuitamente fornisce alle polizie, specialmente alle polizie locali, che sono flessibili per questo, noi siamo a disposizione, la polizia di Rezzato ha visto questo sistema come quello di Travagliato, Gussago sta iniziando con questo drone, ne abbiamo dato in uso uno, con tutti i programmi e software, anche a Palazzolo è stato fatto, Rezzato e Travagliato come Gussago si sono trovati molto interessati a questo sistema di rilievo che è inconfuttabile, che però può servire anche all'ufficio tecnico. per, ecco, stiamo come vede operando in tanti settori che sono sotto settore della sicurezza stradale, siamo aperti a tutti, se qualcuno avesse delle idee e si iscriva, mi permetto di ripetere, se è la cortesia, ad andare al nostro indirizzo internet www.safetyroadforlife.org. lì siamo tutti ben lieti di accettare, devo allegare un piccolo curriculum della vita perché essendo da Osta a Palermo non riusciamo a conoscerci, almeno sappiamo dove è un esperto. Ecco, io lo invito tutti, per esempio abbiamo avuto un pittore, mio caro amico Renato Missaglia che ci ha regalato un quadro, l'abbiamo messo all'asta, lui è un grande artiste internazionale, l'abbiamo messo all'asta alle 10 e mezzo di sera, 8 e mezzo di mattina, l'abbiamo già venduto con il ricavato, ci finanziamo questa ricerca, finanziamo anche la pubblicazione di libri, il CESCAM pubblica un sacco di libri e ogni incontro con i professionisti, ma è aperto a tutti i cittadini anche curiosi che si interessano di questo, vengono regalati dei libri, grazie al professor Maternini, gli autori sono tutti gratuiti, sono i suoi colleghi, professori universitari, però la tipografia dobbiamo pagarla se regaliamo i libri, allora li paghiamo con il ricavato che troviamo, pertanto chiunque è interessato, abbiamo anche un'amica, la signora Fabiana Pacifico che lei è molto attiva, ha organizzato per esempio un evento teatrale, da questo evento teatrale abbiamo ricavato 5.450 euro, anche questo contribuisce a portare avanti il nostro. lei in tutta onestà mi dice, ma io però non sono ingegnere, non me ne intendo di norme e di leggi sulla segrezza stradale, sul codice della strada, però il suo contributo è fondamentale per andare avanti, solo se siamo tutti uniti insieme possiamo contribuire come i giornalisti, devo ringraziare Vittorio Bertoni che tanti anni che ci segue, che ha i contatti come con Radio Bruno per esempio, che mi permette di essere qua e poter esprimere queste idee e poterle comunicare. Ecco, il CESCAM inoltre gli studi li può porre e può fare anche se ha del materiale ovviamente, uno di questi materiali importanti e non si è mai fatto in Italia è analizzare la dinamica di un incidente stradale. Analizzando la dinamica si può capire meglio il perché avviene un incidente. Ieri, proprio ieri, il prefetto di Brescia, il presidente del tribunale di Brescia, il rettore dell'università di Brescia, l'associazione Comuni ed altri hanno firmato una convenzione mediante la quale all'università, o meglio al CESCAM, che è il centro, come ho detto prima, studi città amica per la sicurezza e la mobilità, che è un centro studi che fa parte del DICATAM, che è il Dipartimento di Ingegneria Civile, Matematica, eccetera, che è in via Varanza, Brescia, di riuscire ad avere in forma anonima le dinamiche degli incidenti stradali. Avendo le dinamiche degli incidenti stradali voi capite che si hanno dei casi pratici da poter analizzare e capire perché è avvenuto un incidente. E avendo molti casi poi si può iniziare entrare in una casistica e portare anche delle soluzioni tecniche. Io mi auguro che questi dati arrivino copiosi e nel più breve tempo possibile allo stesso CESCAM.